Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata qui sul server dei titanet, ovvero la nostra bellissima serie di Skull Break Allora ragazzi, mi dispiace se ando portando troppi episodi, ma come state vedendo, effettivamente farmare è difficile Non so, avendo nemmeno troppo tempo per poterlo fare, quindi sto davvero avendo problemi di proprio portare la serie in generale Però tranquilli che stanno facendo dei video Allora, vi ho preso la seconda puntata che avrei avuto il lootcoin e ce li ho effettivamente Però devo spostarmi per forza verso uno spawning diverso da quello normale Perché il primo non ce l'ha, se non è l'ultimo spawning, anzi è l'ultimo spawning, non c'ha la possibilità di prendere lootcoin Mentre ce l'ha questo qui, tipo il G per esempio, quello precedente Allora, io voglio prendermi per esempio un po' di cose Allora, ho tipo 20 di questi lootcoin, potrei comprarmi il reward 3 e se voglio uno di questi due picconi Ho il veinpick o il laserpick In realtà non ce la faccio perché mi servono tipo ancora un altro loot No, quant'è che servono? 20... 15... Sì, nella realtà mi serviva solo un altro per il veinpick Ma non importa perché non è importante per il momento questa cosa Vogliamo prenderci per esempio, ragazzi, noi, il Enchanted con reward 3, ragazzi È importantissimo il reward 3 perché ci dà un sacco di roba, infatti la prenderò E tadan, ragazzi, il reward 3 è pronto e funzionale Andiamo verso la nostra home, home home Prendiamoci un piccone che in realtà è questo qui, il nostro dolky pick Che ha Night Vision 1, F-150, Breaking 100 e Fortuna 85 E con questo, ragazzi, ci mettiamo anche il reward 3 So che non è granché metterlo su dolky pick ma non importa Perché vi spiegherò una cosa importante per quanto riguarda il reward 3 Che molti magari non sanno e che è importantissimo per mandare avanti tutto il concetto di rewarding Allora, per esempio andiamo allociamento e lo spawn, ok E andiamo tipo qui nel blacksmith così riparo anche il piccone visto che ci sono Ok, tanto costava tipo 6 ripararlo quindi non è che costava troppo Andiamo all'Enchanting Table e andiamo ad enchantare il piccone con tipo questa roba Ok, enchantiamola, perfetto Quindi adesso abbiamo reward 3, Night Vision 1, F-150, Breaking 100 e Fortuna 85 Buono? Utile? Sì, ragazzi, tantissimo Perché ora che andiamo verso, per esempio, il Andiamo verso un attimo la home di nuovo Lasciamo velocemente un paio di cose che non ci servono Tipo queste granate, questi firecrack In realtà i granati ci potrebbero anche servire per alcune cose ma veloce a vedere più tardi Allora, lasciamo anche, no, il piccone lo teniamo qua Facciamo così, lasciamo questa roba qui dentro, lo siamo sicuri, ok? Prendiamoci il nostro bellissimo piccone laser pick E dei blocchi diversi da quelli che troveremo in giro Quindi, per esempio, prendiamoci un po' di dirt Ci riempiamo l'inventario di dirt, ragazzi miei, molto facile E facciamo una cosa importantissima Ora andiamo velocemente verso lo spawn E, che sarebbe il primo spawning che troviamo E, infatti, le spawn elementari E andiamo alla prima miniera con il nostro dorky pick Ragazzi, che succede quando andiamo in una qualsiasi miniera con reward 3 Per esempio, miniera A, per esempio, la prima, prima, prima Quando noi andiamo a scavare la roba qui, ragazzi miei, ci tropperà oggetto non finire Allora, per tutto sarà velocissimo Ma, a parte il fatto che non ci riempirà l'inventario di robaccia stupida Ci darà più possibilità di trovare reward Tipo, tre volte tanto Quindi, se hai la possibilità di trovare reward al 10% Ne troveremo, tipo, al 30% Quindi, qualcosa di ancora più grande Ma non credo nemmeno che sia 10% Perché, insomma, sarebbe troppo mainstream E, ovviamente, questa cosa vale per quanto riguarda i libri Vale per tantissime cose, da cui anche le gemme E cose così Quindi, sarà una figata riuscire a rompere tutto quanto E ricevere robe così, di questo tipo Il problema essenziale è che bisogna scavare, davvero, molto Per poter recuperare oggetti Quindi, io, credo che ci convenga, in questo caso Scavare nella prima miniera O, comunque, scavare anche nell'ultima, se possibile Un'ultima, con niente, possiamo trovare Perché, lì ci stiamo E, comunque, si può comunque fare, in realtà Il problema essenziale, insisto, è che bisogna scavare tanto Se dobbiamo recuperare delle reward Perché non le trovi subito Quindi, per quello, metterlo su questo microne È fantastico, ma non sempre così Ragazzi, per esempio, adesso mi ha fatto uscire due volte il reward E ne ho presi due di seguito, proprio Preso, infatti, rare e il common Quindi, doppio libro In pochi secondi Niente, bisogna continuare a scavare È un po' una cosa noiosa Ma, in realtà, è molto più figa rispetto Cioè, invece di aspettare, ovviamente Tipo, di trovare il reward a random Infatti, qui c'è più possibilità di trovare il reward Quindi, perché no? È una cosa che ci potrebbe aiutare Ad andare avanti Senza più problemi Quindi, reward 3 Sicuramente è un ottimo guadagno Sono passati, tipo, nemmeno 5 minuti Ragazzi miei E ho questa roba nell'inventario Vi faccio vedere Bam! Guardate quanta roba abbiamo operato Nel giro di nemmeno 5 minuti Tra cui, tipo, un raid, un epico Quindi, funziona Funziona davvero un sacco Vedete, guardate, un altro reward Ma, due secondi fa è uscito l'altro Adesso ce ne ho un cuoso in più Quindi, perché no, ragazzi? È fantastico questo upgrade del piccolo Perché dove sia un piccolo un po' così così Però, ragazzi, l'unico enchanting Che potevo mettere, tipo, sugli altri piccoli Credo fosse l'unico piccone disponibile Il baby's pick Quindi il reward 3 per forza su questi piccoli Va messo E qui va benissimo, in realtà Perfetto Ovviamente, ragazzi Questa cosa funziona Anche con le granate, presumo Infatti, se il tipo Lasciamo così una granata E prendiamo il primo piccone Effettivamente abbiamo avuto più fortuna Abbiamo trovato già il reward Oddio, una granata È un reward Ci sta Comunque, ho trovato un Un odd currency Non so nemmeno come E perché, in realtà Ma a noi va piuttosto bene Ho preso un po' di libri Quindi adesso le andiamo ad aprire Tranquillamente, ragazzi Vedere che oggi La puntata sarà un po' più cortina Del solito Però non preoccupate Anche perché Nella prossima puntata Dovrò riuscire a fare altri 7 miliardi Sono tanti, insisto Però devo mettermi l'impegno Non lo sto facendo Perché davvero Nel dare ultimamente Col caldo È un po' sofferente Ma va bene Diciamo che Evidentemente bisogna farlo Nel ogni caso Ragazzi miei Abbiamo un po' di roba Tipo Abbiamo la Cold Forged Blade La Golden Battle Eggs Che in realtà Tor save i projecton E il resto Che è comunque interessante Ma non troppo Questi quali andrò a mettere Ovviamente a posto E terò lì Nel caso Dovesse utilizzarli Nel prossimo futuro Ma per il momento Non credo che sia Diciamo Il tempo di trattare queste cose Anche perché in realtà Per ora il pp non c'è Motivata è bellissima Fa il pp E ragazzi Ma non è Diciamo essenziale In questo sale Anzi in realtà Poca gente fa pp Però se ce la faccio Magari qualche pp lo faccio Comunque il teleporter Non funziona ovviamente Quindi Nada per il momento Vi ricordo anche Che il mio obiettivo secondario Per la casa È quello di riuscire a fare Ben 2500 gemme Quindi tipo Ancora 1350 Più o meno Sì Direi di sì Che serviranno a fare L'upgrade Per la casa Se con Tipo la semifinale Credo sia Effettivamente Dovrebbe essere O comunque Tipo Una delle ultime Anche perché credo Che ci sia quella Da 2,5 4,5 Poi la da 6 Che sono in sostanza Le case finali Ovviamente Che ci porteranno Ad avere milioni Milioni di cose Vi ricordo ancora Che abbiamo un sacco di libri Da dover spartire Ovviamente adesso Sto legando un po' Il server Con voi Quindi mi raccomando Entrate nel server Quando vedete questo video Perché io tranquillamente Lì sarò pronto Ad arrivare il libro Ovviamente tipo Passerà la mezz'oretta Quindi per le 17 Perché in genere Pubblico i video Alle 16 e 30 Mi raccomando Entrate così vi do Un po' di libri common E magari trovate Qualche cosa di interessante Soprattutto se siete Ai primi livelli O comunque Siete all'inizio Perché alla fine Ci sono un po' Di cose interessanti Tra cui anche Dei piccoli Niente niente male Comunque ragazzi Direi che questo video Potrebbe essere anche tutto Noi ci vediamo presto A una prossima puntata Dall'essere tutto Ciao ciao E al prossimo video